La compagnia aerea Air Italy potenzia i collegamenti aerei da Bari per turismo ma soprattutto per affari. Dal 28 marzo sarà attiva la nuova rotta Bari-Verona. Air Italy è l'unica compagnia aerea ad offrire per la Puglia il collegamento tra le due città due volte nello stesso giorno. Al prezzo di 88 euro si potrà partire da Bari alle 9.20 alle 19.55. Le arrivi a Verona sono previsti rispettivamente alle 10.40 e 21.15. I collegamenti saranno attivi tutti i giorni della settimana. Da Verona invece si potrà partire alle 7.25 alle 18.00, ritorni a Bari previsti alle 8.45 alle 19.20. Per programmare le vacanze quest'anno i pugliesi potranno raggiungere in aereo la Sardegna grazie ad un nuovo collegamento Bari-Olbia messo a disposizione dalla stessa compagnia. Il collegamento sarà attivo dal 24 luglio fino al 4 settembre. Il prezzo sarà più che vantaggioso, poco più di 100 euro andata e ritorno. Infine grazie ad un collegamento via Roma la Puglia sarà inserita nel network dei collegamenti intercontinentali di Air Italy. Dal capoluogo si potrà raggiungere il Brasile, il Madagascar, la Repubblica Domenicana e Cuba, imbarcando la valigia a Bari e ritirandola direttamente a destinazione finale. Voli con tariffe di tutto rispetto, 799 euro andata e ritorno. Insomma la Puglia davvero decolla. Ne è convinto l'assessore regionale ai trasporti Guglielmo Minervini che annuncia nuovi investimenti per 90 milioni di euro per potenziare il sistema aeroportuale pugliese. Impegneranno interventi sia sul Ginolisa, l'allungamento famoso tanto atteso dal territorio, che interventi sull'aeroporto di Bari, potenziamento e di allargamento anche con nuove aree operative dall'aeroporto di Bari e interventi sull'aeroporto di Brindisi per potenziare ulteriormente l'infrastruttura in misura della crescita del flusso che sta esplodendo proprio in quell'aeroporto.